A Leonardo che non si fa ridere, non lo faccio dire, basta che non sta malato chiesto, quasi quasi lo chiamo, 0, 8, 1, 23, il numero di Leonardo, 34, la capa, ecco qua. Ehi, la crescita la ti sbagliate, ma eppure è il numero, ma 0, 8, 1, 23, 34, e 70. Pronto, ma non capisci, pronto? Pronto, ma staranno in differenza con l'ospedale, ma si lo invagia il cattivo, ma ti faccio il numero, ma da voglia, 3, 8, 1, 23, o scema, io che ti riferisco, e si, e 70, e a mano. Pronto, pronto? Ehi, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. ma pure prima ero tu? e pure prima ancora ero tu? e non passa niente, tre telefonate mi hai fatto ma credo io ti sento una schifezza, ma credo che hai passato? sono guaiato, sono con me l'ascolto, sono chido l'acqua ti sei fatto sotto? ma non è, immagini che l'ascolino ma non è, stai malato mannaggia capa tu, ma non è che mi viene a trovare? che? perché mi viene a trovare? ma chi sei sceme ti vengono a trovare? ma secondo te i giurati, potrei che ti vengono a trovare? e me non c'è stai ma Anna, Anna sta a letto con il dottore? no signor, sta a letto con la freva, con l'influenza purezza ma manca quando sei malato hai fatto tu e me, mi sento una cavurata con bollo e botta la pasta e mi sento 40 tengo il minimo 40 febbre hai febbre, hai capito di pietra? ehi no, 40 si ma che tu stai prendendo? solo l'aspirina si, è solo che lo tengo no signor, fai una cosa, no no mettete il pupatello ehi ehi stai messo i centi supposti ehi, un formanello ehi 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 che si mette l'amica tu hai sull'allergica, e ne ma che capito e pietra sempre schifezza non c'è che lo so su posto a veda ehi ma stai su ehi ehi ma stai su ehi ehi, sto solo su perchè, la mogliere te non ci stanno? aiuto a trovare la sora l'ha trovata con la freva si è miscata pure se è rimasto là a dormire sto solo, ehi ehi ehi, stai solo tu mannaccia capa tu ehi 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 non ci hanno telefonato nessuno è un cimitero e in giù ci sono tutti fermi che stanno malato tutto quanto Leonardo hai capito? ehi 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 non signore sta a letto con Giulia eh sta a letto con Giulia no signore vabbè mazzo fatti e fatti tuoi Ulisse ehi 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 ho fatto il vaccino per l'influenza voi non lo fate senti ok voi si diceva è tutto fascista eh no no Leonardo io sono contro i vaccini ma che lo sa credo i vaccini non sono altro che il microbo della malattia stessa che tu fai per una piccata hai capito? se in quel momento tu trovi debole il microbo sei piccata l'influenza hai capito Leonardo? no no in pratica si tu all'epoca invece da la vaccinazione ma ti sei piccata sei 2 kg d'arancia l'influenza è una piccata no no eh i vaccini sono un bello business i vaccini che faccia io eh fai pure oh fai anche una sensazione che ti? ma senti che cos'è pesante la capa vacante ah pure che cos'è pesante che lì ha frema la capa vacante è una piccata io non ho capito eh eh donna comunque mi lo dà già lasciare perchè sento l'avviso di chiamata e ne anche lei mi lo dà avviso quando ti chiamano ma non è male lì che mi avviso ma non è male l'avviso di chiamata che vuol dire che sta una telefonata che qualcuno che mi cerca e ne tengo una dos e non parlare io ne tengo 3 o 4 fino al mese che scatano i piedi ma che hai capito eh e tazzo ah a tazzo ah a tazzo ah a tazzo e pure e poi che si ruba erne capo con 3 sono su perchè mi viene a trovare ma chissà c'è un po' creatura a leonardo ma come vengo ma secondo te io giuro la poteca è pagato a trovare a leonardo poi la poteca scrive eh chiuso per che è andato a trovare a leonardo eh già stasera vengo ti ha roppo roppo che hai fennuto eh eh erne che si chiamano rimasto soli sono rimasto senza mangiare portami qualcosa ho capito facemmi una cosa eh qualcosa per cena eh ti porto una bella bella carta non è ma si sce per cui ah no ma vuoi fare pure il tuo prezzo animale vai da parte che le maiale ah ehi e fa una cosa portami un po' le costatelle due costatelle due costatelle se vuoi pure un po' che mozzarella se eh un mezzo chilo che mozzarella fai portami un po' le paste eh 750 grammi di prosciutto crudo crudo quello di parma un po' le bottiglie di oliva di oliva due bottiglie di vino olio di oliva un mezzo chilo di parmigiano si e poi accendo e accendo lo salumino vedi che è un coppa a sinistra c'è questo fruttaio vedi 3 kg di banane eh 5 kg di arancia eh e 3 mila ma raccomando annurcha e mela annurcha eh leonardo ma un letto tiene si un letto c'è stato e un pane c'è stato pure un po' che fate eh è fatta una bella zuppelata e va a fare un culo ma ah 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 ah